Buonasera, sono Laura Antichi. Ora parleremo di come costruire nei mondi virtuali e in OpenSIM. Naturalmente per costruire dobbiamo essere in una zona che lo permetta, una sandbox, e la costruzione nei mondi virtuali è molto interessante perché aiuta a combinare 1 capacità matematiche nell'organizzazione spaziale, creazione e manipolazione degli oggetti, 2 capacità linguistiche multimediali, 3 capacità narrative, 4 capacità cinestesico manuali, 5 l'intelligenza procedurale. Si può accedere al menu costruisci in vario modo, potrei andare nella barra in alto in costruisci, attivare e spuntare quindi costruisci, vedrei comparire la finestrella di costruzione, potrei anche utilizzare come suggerito dal menu costruisci la combinazione dei tasti CTRL più B, altrimenti in maniera più immediata posso cliccare con il destro del mouse sul terreno della mia sandbox e andare in Crea e compare di nuovo la stessa finestra di costruzione. Ora vedete che le proposte di costruzione di oggetti sono molteplici, cioè ho la possibilità di rezzare un cubo, di rezzare un prisma, una piramide, un tetraedro, un cilindro, un semicilindro, un cono, un semicono, una sfera, una semisfera, un toro, un tubo e un anello e i due elementi che sono l'albero e l'erba. Noi adesso cercheremo di operare con alcuni di questi quindi solidi di tipo matematico e quindi la prima cosa che dobbiamo fare ad esempio per rezzare un cubo che è il primo solido che andiamo a vedere è di cliccare sul cubo, cliccare sul terreno con la bacchetta magica, vediamo comparire il cubo, il cubo lo ingrandiamo agendo sul quadratino bianco del cubo, diamo sicuramente in questa finestra generale un nome al cubo lo chiamo tutorial, metto una descrizione, questa è una prova, poi compare il nome del creatore, sono io del proprietario e il del precedente proprietario, non necessariamente il creatore coincide con il proprietario, potrei anche utilizzare un oggetto che mi è stato poi donato o che ho preso dagli altri. Interessante è attivare il gruppo, posso anche cambiare il gruppo tra quelli che mi compaiono, tra i miei gruppi e clicco su condividi perché in questo caso posso condividere gli oggetti che che creo con il mio gruppo o che potrebbe corrispondere anche alla classe. Poi posso definire in che maniera interagire con l'oggetto con il click, con il click tocca, siedi sull'oggetto, compra oggetto, paga oggetto, apri inquadra nessuna, lasciamo il tocca, potrei anche mettere in vendita l'oggetto, in vendita esempio, per mettere la copia, il contenuto originale, la copia quindi ai successivi acquirenti di prendere una copia oppure il contenuto, a loro sarà dato in questo caso una cartella o l'originale per cui poi l'oggetto non sarebbe più di mia proprietà ma sarebbe, passerebbe alla loro proprietà. La determinazione del prezzo è inessenziale perché non c'è transito monetario all'interno di Crust. Dopo averlo messo in vendita clicco su applica. Molto importante la definizione poi dei permessi, potrei darvi permesso di sposta e copia a chiunque ma potrei consentire ai proprietari successivi di copiare, di spostare, invece potrei consentire il copia a chiunque e potrei consentire ai proprietari successivi di modificare, copiare questo oggetto nel qual caso loro potrebbero renderlo disponibili per altri acquirenti nel caso invece non spuntassi la casella del modificare e del copiare l'oggetto non sarebbe poi dal proprietario successivo dal compratore, dal vendor del successivo di avere, di trasferirlo ad altri. E infatti se a questo oggetto lo chiudessi, quindi non permette al proprietario successivo di modificare e di copiare, lo chiudessi, l'ho messo in vendita come vedete, ok, e chiudo l'oggetto, vedete prendi, metto prendi l'oggetto, dovrei trovarlo tra i miei oggetti che si chiama tutorial e lo posso trascinare qui e vedete che mi dice che tutorial, posso comprare una copia io stessa che è non copiabile comunque non è modificabile, ok, e quindi posso comprare e vedete che l'ho comprato in effetti nel momento in cui lo compro compare un altro oggetto nell'inventario che mi dice non copia e non modifica, ok. Ritorniamo dunque al nostro oggetto, lo permetto quindi a chiunque di copiarlo, permetto al proprietario successivo di modificare e di copiare, quindi questa interfaccia del generale riguardo all'oggetto è completata, l'abbiamo esplorata, ora andiamo a vedere il oggetto. è molto interessante la parte dell'oggetto perché mi dà, adesso sposto anche la finestrella, mi dà la possibilità di innanzitutto fare dei cambiamenti all'oggetto, nel senso che ho il cubo come punto di partenza, potrei trasformarlo ad esempio questo cubo in un cilindro, cliccando su cilindro, vedete che me l'ha trasformato, lo riconsidero come cubo, clicco su cubo e io ho il mio cubo, vorrei ingrandirlo un attimo di più, ecco, e a questo cubo cosa posso fare? Ridurre la sezione, agisco sulle caselle, sulle caselle riduci sezioni, inizio e fine, in questo caso, e potete vedere che me lo praticamente riduce dalla parte della I e anche dalla, facciamolo anche dalla parte della F. ecco, e vedete che questo oggetto, agisco con i tasti CTRL e ALT per far vedere l'oggetto, vedete che questo oggetto si è trasformato in un altro oggetto, quello che comunque viene messo anche a disposizione nell'interfaccia principale. Posso ritornare al, ritornare alla, dare il valore di nuovo a 0, aspettate, ho sbagliato, dall'altra parte, quindi 0 e 1, per ritornare quindi nella situazione di partenza. vediamo ora la funzione del foro. Posso forare l'oggetto agendo sulle freccette del foro. Come vedete mi sta forando l'oggetto. vado avanti. Posso cambiare la forma del foro da predefinito che segue quindi l'oggetto a rotondo, come vedete, a quadrato, a triangolare. Ritorno alla forma originale, il predefinito del foro. Potrei anche agire con la simmetria, e quindi farlo asimmetrico. Adesso lo alzo. Con il CTRL ALT vi faccio vedere che il cubo è stato forato. Ora creo un altro cubo. Per vedere la funzione lo ingrandisco, sempre agendo con il tasto SHIFT CONTROL e sul quadratino bianco. lo faccio un po' più grande e vediamo la funzione attorciglia. Ecco, agendo quindi sulle freccette, vedete che questo oggetto mi assume una forma quindi attorcigliata. potrei anche agire dall'altra parte, lasciamolo così, andiamo un po' sotto, che è più attorcigliato, che appare più attorcigliato. Poi posso, lo ingrandisco sempre con il SHIFT CONTROL, posso avvicinare i lati, guardate, quindi agendo sulla X e agendo sulla Y, mi dà quindi un'interessante forma che può essere utilizzata per delle sculture o in altro modo. posso attorcigliare così, in questa maniera. Ora prendiamo, quindi vista la funzione attorciglia, prendiamo, vedete che con questa funzione attorciglia ho creato una sorta di gelato dentro le coppe, che vedete, che vedete qui. Chiudo e apro, quindi, un altro cubo per mostrare un'altra funzione. questo è il cubo, lo ingrandisco alla solita maniera e posso inclinare il cubo agendo sulla X e sulla Y. anche questo può essere interessante per quanto riguarda le costruzioni, vedete, ho agito prima sulla X, adesso sulla Y, sulla coordinata Y. Posso anche tagliare il cubo, come vedete, dal basso, con la Y, o dall'alto. Quindi posso anche operare utilizzando questa funzione. La posizione dell'oggetto può essere determinata anche utilizzando le funzioni che sono nella casella di costruzione alla sinistra agendo sulla X, la Y e la Z. Ricordando che la X compare, corrisponde alla freccetta rossa, la Z ha la freccetta blu, quindi qui sposta in alto, vedete, la rossa meno sposta di lato, e la verde è la Y. Ricordate comunque che le varie funzioni sono legate a delle coordinate che assumono un colore di freccia diverso. Poi posso anche ruotare questo solido, agendo nella casella di rotazione in gradi rispetto alla X, la Y, la Z, o semplicemente utilizzando il tasto CTRL. Vedete che lo ruoto, lo ruoto in varia maniera, quindi secondo i vari assi. E' molto facile farlo, utilizzare questa funzione con i propri tasti. Vi ripeto che per poi cambiare le dimensioni del cubo, basta cliccare contemporaneamente sul tasto SHIFT e CTRL e agire sui quadratini. Vedete che lo posso modificare, il secondo sempre, la X, la Y e la Z, in questo caso è inclinato. Di un oggetto è possibile fare copia, riguardo a questo che vi ho mostrato ad esempio. Posso fare copia, agendo con SHIFT, vedete che mi dà una copia, quindi parallela dell'oggetto. Mi dà una copia rispetto alla coordinata Y, quindi rispetto alle varie coordinate. Trascinandolo, quindi sull'asse della X, della Z o della Y. Posso farlo anche con questo oggetto, che era il torciglione, sempre con SHIFT, lo faccio in alto questa volta e come vedete me lo duplica in alto. Posso farlo agendo sempre con lo SHIFT sulla freccetta verde della Y e posso anche farlo sulla freccetta che riguardo. faccio qui, che è già attivo, quindi la coordinata della X. Ok, questi sono gli oggetti, quindi duplicati, che è possibile duplicare. Crea un altro cubo per vedere altre funzioni, sempre con CREA. cliccando qui, ingrandendo sempre con tasti e vedete che le ultime cose che dobbiamo vedere sono l'oggetto bloccato, il fisico, il temporaneo e il fantasma. Quindi un oggetto può assumere queste caratteristiche. Un oggetto bloccato non può essere traslato. Come vedete non mi vengono, non posso quindi traslarlo, non si può copiare, non si può spostare. Se quindi l'oggetto lo rendo poi a fisico, l'oggetto diventa un blocco fisico che si muove più o meno seguendo l'avatar. E se lo metto in alto, adesso lo vediamo, cade per terra come per rispondere ad un effetto tipo gravità. Chiudo il menu di costruzione, l'ho fatto fisico come vedete. E questo oggetto, vedete che, vediamo cosa succede quando l'avatar lo incrocia. Vedete che si sposta con l'avatar. In questo caso, guardate, ecco, si sposta con l'avatar. E se poi vado in modifica e lo alzo, e chiudo, ecco, vedete che cade a terra per rispetto similmente alla gravità. Se questo oggetto, vado di nuovo in modifica, invece di fisico lo rendo temporaneo. Intanto lo faccio temporaneo, poi ne creo un altro per vedere se scompare. Dopo un certo tempo, il prim, l'oggetto viene eliminato. Quindi, chiudo qui, costruisco un altro cubo con Crea, qui. Lo ingrandisco alla solita maniera, cliccando con il tasto Shift e Control. Questo è un nuovo cubo. L'altra proprietà che possiamo ora vedere è quella del fantasma. Fantasma. Quindi, chiudo questo cubo, questa finestra di... E se guardate, se il cubo è fantasma, l'avatar può attraversare proprio il cubo. Vediamo ancora... Passa attraverso il cubo. Quindi è penetrabile. Vediamolo di là. Se potete osservare, il cubo di prima che avevo creato non c'è più, perché era, l'avevamo, questo vado in modifica, l'avevamo reso temporaneo, è scomparso, come vedete. Quindi tiro via tutte queste spunte. Quindi noi abbiamo visto tutte le caratteristiche dell'oggetto, che cosa possiamo operare con l'oggetto. Interessante anche, poi, vedere le altre, queste funzioni, rispetto ad altri solidi. Riassumendo, abbiamo quindi visto come creare un cubo. Un cubo attorcigliato con la funzione attorciglia. Il cubo attorcigliato utilizzando la funzione avvicinalati. Il cubo forato con il foro, vedete. E poi il cubo che è stato poi ridotto nella sezione. Ora, una interessante azione può essere fatta sulla sfera, perché con la sfera si possono creare, scavata, si possono creare molteplici oggetti. Come a scodelle, a gazebo, volevo far vedere un esempio di gazebo. Andiamo a vedere il gazebo, quello che vedete qui azzurro, che è stato creato. Ritorniamo nel riassunto dei nostri solidi e proviamo, quindi ora, con Crea, a creare una sfera e a scavarla. Innanzitutto ingrandisco la sfera, la porto un po' in alto e nella finestra oggetto vado a scavare la mia sfera. Quindi, faccio la stessa operazione del foro che avevo fatto qui, con il cubo. Quindi vado in scava, scavo quanto voglio, e l'effetto, adesso la ruoto, la sfera con R, è che ho scavato questa sfera che posso ingrandire, posso utilizzare in vario modo. Molto interessante, davvero, perché ci permette di fare molte cose con gli oggetti. Ora vediamo come applicare una texture agli oggetti. Quindi seleziono l'oggetto, in questo caso il cubo. Potrei attribuire in texture un colore, senza dare una texture vera e propria. Questo, ad esempio, verde acqua. Ok. Oppure potrei dargli una texture, togliendo, lasciando il colore di sfondo, andare nelle mie texture. Per farlo, vabbè, il primo che mi viene in mente è in legno. Ho attribuito quindi la texture legno, diamo una luminosità massima. Ok. Posso poi fare lo stesso con il cubo torcigliato. Do una texture anche al cubo. Vediamo se ne trovo una adatta. Facciamo di marmo viola. Vabbè, così, do la luminosità massima. Così, con l'oggetto, questo cubo a cui sono stati avvicinati i lati, vedete che fa una sorta di gelato, o di torciglione che finisce a punta, posso anche qui andare a dare una texture. Nelle texture che ho già caricato sul mio computer. Vediamo se ne trovo uno. Vabbè, facciamolo di erba. Vabbè, tanto per dare una texture qualsiasi, ok. Potrebbe essere una anche una di quelle siepi stile italiano. Poi diamo una texture al cubo forato. Quindi vado anche qui in texture. e scelgo facciamo vediamo se ne trovo una che possa andare bene mettiamo Picasso, va bene ok mica luminosità massima quindi l'ho fatto con un'opera di Picasso poi do una texture qui a questo solido che ho tagliato e potrei dare qui solo il colore ad esempio l'arancio ok e vado poi a dare una texture anche alla sera che è stata scavata texture e vediamo se trovo facciamo di legno, di pietra pietra ok non dà molto effetto vabbè vabbè lasciamo la lì con quella texture con quella texture lì ok ok do luminosità massima anche questa e vedete che ho quindi colorato i miei oggetti potete trovare poi le texture adatte rispetto al vostro contenuto quindi quindi scegliamo un'altra va che proprio vediamo se ne troviamo un'altra ma forse no va bene lasceremo quella in attesa di caricarne lasciamo questo abstract ecco che è meglio ok quindi avete l'opportunità di vedere come gli oggetti possono diventare anche degli oggetti artistici ora vediamo come dare un oggetto adesso chiudo qui il menu dare un oggetto a una persona posso allora questo lo vabbè lo prendi copia quindi il questo oggetto lo ritrovo nel negli oggetti reggenti si chiamava colonna e lo trascino sull'avatar perché se l'avatar è in presenza l'avatar ha ricevuto quindi l'aki l'antichi ha ricevuto la tua offerta di inventario e quindi la persona che riceve l'oggetto in questa maniera dovrà vado sull'altro computer accettare aspettate accettare l'oggetto perché questo poi rimanga nell'inventario di questa persona in modo permanente potrei fare anche in altro modo andando nella chat quindi chiudo qui se no lascio aperto fermando andando nella chat locale cercando cliccando quindi su l'achila antichi e trascinare colonna nella chat direttamente quindi sei sicuro di voler condividere gli oggetti colonna con i seguenti residenti l'achila antichi direi di sì ok e quindi anche in questo caso la persona dovrà accettare l'oggetto che le ho dato le ho offerto in maniera permanente un'altra cosa che volevo dire sugli oggetti vado in modifica è che gli oggetti come vedete nelle caratteristiche questo è l'oggetto generale generale l'oggetto le caratteristiche la texture e quindi abbiamo visto potrei mettere anche questi oggetti potranno avere anche dei contenuti e vedremo in seguito l'oggetto può anche assumere le direzioni in rapporto al mondo quindi all'ambiente in cui noi siamo oppure avere una collocazione locale quindi indipendentemente dall'ambiente in cui si è l'ambiente l'ambiente ho l'ambiente Grazie a tutti.